La memoria non è al futuro, vediamo come oggi i razzisti e i fascisti provano a tornare ad alzare le teste delle nostre città. Vediamo come si porta avanti la guardia tra poveri nei quartieri popolari, dove i razzisti sono sempre pronti a dare la colpa dell'emergenza abitativa al migrante e al più povero. Domani a Cianzino sarà una giornata a ricordo di Pinelli, una giornata per non dimenticare, ma per continuare ad alzare. Arriviamo alle 17.30 e poi con le lotte che approgassero i nostri dei ricordi, dalla lotta all'Avitare, alla lotta all'Expo, alla lotta all'Otag, ricordiamo i complimenti.